300 universitari da tutta Italia arriveranno da domani a Rimini per il congresso nazionale della FUCI, un appuntamento che la città ospitò l'ultima volta nel 1960 quando a presiedere lo fu Luciano Chicchi, scomparso nel novembre scorso. Proprio a lui il cui sostegno è stato fondamentale per riportare l'evento in città va il ricordo dei vertici locali che hanno anche altri predecessori eccellenti sul territorio come Alberto Marvelli e Gino Righetti. Titolo di questo 62esimo congresso esodo dalla crisi, la via della democrazia. Proprio perché la democrazia è quel sistema anche di valori e di diritti che tiene insieme complessità, molteplicità, pluralità e la dignità della persona come faro, come centralità. Proprio per questo riteniamo che sia una via di esodo dalla crisi. Rifocalizzare l'attenzione sulla democrazia e quindi anche su un insieme di valori e di diritti quali informazione, istruzione, partecipazione sia particolarmente importante per consentire alla persona, all'uomo tutto intero di poter uscire da questo stallo e di poter essere sempre più se stesso al centro della società e della comunità. Primo appuntamento domani alle 17 al Teatro Novelli. Tra i relatori il professor Zamagni e il presidente emerito della Corte Costituzionale, Ugo Desiervo. Venerdì alle 9.30 nell'aula magna dell'università si parlerà di cittadinanza, mentre alle 16 al Teatro degli Atti ci sarà una tavola rotonda sulle nuove generazioni e ci sarà anche modo per un ricordo importante. L'apertura del congresso coincide con un ricordo di un presidente della FUCI che tanto ha dato per la democrazia, per una cultura democratica e per le istituzioni del nostro paese, che è stato Aldo Moro. Lo ricorderemo nel primo giorno leggendo uno straccio di una sua riflessione sulla democrazia che scrisse alla FUCI e assieme a lui appunto come in questi giorni ricorderemo anche Giulio Andreotti nella loro comune partecipazione a quello che è stato il cammino della FUCI.